Si apriranno domani, mercoledì 23 settembre, con un corteo ed una fiaccolata dei giovani atleti e una cerimonia nel maschio angioino alla quale parteciperanno il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e quello della città greca di Olimpia Antica. Sono i giochi isolimpici partenopei, manifestazione sportiva e culturale che fino a domenica 27 celebrerà la tradizione per la quale Napoli fu l'unica città occidentale ad avere il privilegio di celebrare i giochi italici in onore di Roma e di Augusto, definiti isolimpici anche perché seguivano la cadenza quinquennale dei giochi olimpici. Un privilegio conquistato grazie al fatto che Neapolis, in un clima di diffuso decadimento dell'ellenismo nella Magna Grecia, per le sue intatte caratteristiche della lingua e delle istituzioni e dei costumi, era considerata ancora fino ai primi anni dell'impero la vera metropoli occidentale dell'ellenismo. Isolimpia rappresenta il binomio perfetto tra sport e cultura, quindi il fatto anche di promuovere attività collaterali importantissime che fanno del nostro paese un paese da amare e comunque che ha una grande tradizione sportiva, quindi questo è il futuro della seconda edizione della settimana europea dello sport. Ciascuna federazione o ente di promozione sportiva che aderiscono sempre con molto entusiasmo porta centinaia di atleti, per cui noi raggiungiamo facilmente oltre i mille atleti. Naturalmente il nostro obiettivo è che al di là di tornei o dimostrazioni sportive, in futuro vi siano vere e proprie competizioni di livello nazionale e internazionale. Il nostro villaggio isolimpico da quest'anno sarà collocato a Terme di Agnano. In più abbiamo siglato diversi protocolli di intesa con il CONI, con il Comune di Napoli. Nel corso dell'inaugurazione sarà annunciato il gemellaggio fra Napoli ed Antico Olimpia. Lo sport in questo momento ci aiuta a diffondere, in particolare tra i più giovani, i valori che sono fondamentali per ricostruire una convivenza civile che sia improntata all'altruismo, alla generosità, alla competizione leale, al rispetto degli altri, al rispetto delle regole, quindi tutta una serie di valori molto importanti. E poi questo bellissimo format che è Isolimpia, che ha questa radice storica così affascinante e suggestiva, oltre ad essere una grande occasione di promozione di valori, ha anche una grande proiezione internazionale dell'immagine di Napoli. E quindi ci aiuta non solo sul versante della cultura e dei valori, ma anche su quello del turismo. Grazie. Grazie.